Per raccolta di contenuti ad alta interattività intendiamo la collezione di contenuti attraverso l'interazione con docenti, altri studenti o con strumenti digitali come i sistemi di realtà virtuale o gli student response systems. Quando parliamo di raccolta di contenuti ad alta interattività intendiamo un evento di apprendimento durante il quale lo studente ha l'obiettivo principale di raccogliere contenuti esattamente come nella raccolta di contenuti a bassa interattività. Questi momenti di apprendimento sono però caratterizzati da una maggiore interazione fra docente e studenti o tra gli studenti e in molti casi questa interazione è mediata da strumenti digitali. La raccolta di contenuti ad alta interattività da parte dello studente può essere fatta in aula, online in sincrono con il docente oppure attraverso la lettura di libri e articoli, la visione di video e altri materiali che mette a disposizione il docente. Ma come si fa ad avere alta interattività in tutti questi contesti? In presenza, in aule anche molto numerose, ci si può fare aiutare dagli student response systems, abbreviato SRS, ossia degli strumenti online attraverso i quali è possibile lanciare quiz o attività agli studenti. Con questi strumenti gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco, tutti, nello stesso momento, si riescono a contenere i tempi delle attività che possono durare anche solo una decina di minuti e in ultimo si riesce a dare un feedback immediato alla classe. Gli student response systems si rivelano utilissimi anche nel contesto online sincrono. In modo controintuitivo, in alcuni casi, online può essere addirittura più veloce lanciare attività strutturate e con classi anche grandi. Grazie alle sessioni parallele o breakout room disponibili in molti strumenti di web conference, il docente infatti può organizzare gli studenti in gruppi, monitorare l'avanzamento dei lavori di ciascun gruppo usando lavagne o tool condivisi e riunire tutti nella sessione plenaria in tempi immediati per un confronto generale. Il contesto forse più sfidante per tutelare l'interattività durante la raccolta di contenuti è quello asincrono, ad esempio quando si parla di lettura di testi o visioni di video. Come fare in questo caso? Anche in questo caso ci aiuta la mediazione di alcuni strumenti che consentono la lettura di testi o la visione di video interattive e collaborative. Come? Semplicemente ci consentono di inserire delle domande chiuse o aperte o delle richieste di commenti e riflessioni in modo puntuale all'interno del video o del testo a cui gli studenti possono rispondere individualmente o a gruppi. Attenzione perché quelle che abbiamo visto finora sono solo alcune delle possibilità, cioè tutte queste attività possono essere collocate o spostate nei diversi scenari. Ad esempio la visione collaborativa di un video può essere proposta anche in aula. In generale quando si usa lo smart learning design per progettare un intervento formativo è importante ricordarsi che il primo passo è selezionare l'evento di apprendimento che si vuole progettare e inserire nel proprio corso. Si sceglie poi la tipologia specifica di attività e solo in un terzo momento dove inserirla sincrono in presenza, sincrono online, asincrono online o studio autonomo. Grazie. 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 Grazie.